Filippo Fraraccio, giocatore isernino classe 2005, dunque fresco di vittoria del campionato di Serie D, questa volta nel Girone G. Mancavi in quarta serie da ben quattro stagioni, dall'annata con il vasto Girardi nel Girone F, dunque quale miglior ritorno che una vittoria del campionato, credo stravinto con ben quattro giornate d'anticipo. Vincere a Cava dei Tirreni la Serie D, il Girone G, è stata un'emozione unica, mi sono levato questo sassolino della scarpa perché ritornare in Serie D mi mancavano questi campi e quindi sono contento. Abbiamo fatto questa impresa con quattro giornate d'anticipo, con un gruppo fantastico e meglio non potevo chiedere. Sì, hai ricoperto una stagione molto positiva sotto tanti aspetti, sei stato under, sicuramente sei stato utilizzato in diverse zone del campo, poi nei vari ruoli. Sì, quest'anno in Coppa, in campionato e nell'Apollo ho ricoperto diversi ruoli, principalmente ho giocato come terzino, quinto e mi è piaciuto perché si correva, è il ruolo che preferisco e ho fatto anche un gol e due assist. Sì, avete partecipato ovviamente anche all'Apollo Scudetto, c'è stata l'eliminazione in semifinale per mano del campo a basso, ma parlando chiaro ovviamente questa competizione post-season dove non c'è l'assilo del risultato, insomma non la si affronta poi con tutta questa attenzione? No, siamo anche stati penalizzati dal fatto che all'andata eravamo decimati, tanti infortuni, tante squalifiche e quindi il risultato dell'andata un po' bugiardo ha fatto sì che il ritorno dovesse essere proprio un'impresa. Abbiamo vinto ma non siamo passati. Sì, dicevamo mancavi dalla dita qualche stagione nel frattempo, comunque hai partecipato a diversi campionati nazionali della Juniors, insomma esperienze lontano da casa che ti hanno formato ulteriormente. Sì, sì, il primo anno l'ho passato nell'Under 17 della Sampdoria dove siamo arrivati i quinti in classifica, mentre l'anno scorso sono stato alla spalla nell'Under 18 dove abbiamo vinto il campionato, siamo diventati campioni d'Italia nella categoria. Sì, ora con questo curriculum, beh, c'è l'estate ma sicuramente aspetti qualche chiamata rilevante. Sì, sì, stanno arrivando fortunatamente le prime chiamate, sono soddisfatto e ora analizziamo, abbiamo un po' di tempo per analizzare.